il terzo trofeo la Coppa Italia 1974-2006-2007 Super Tommy che cosa ci propone delizia per gli occhi dalla parte esterna lui gira senza fare fallo all'interno fa un grandissimo gol io direi che la scuola ma già la scuola ongerese guardate il sguota all'interno fa unero adesso l'interno fa un'interno la scuola tra Intelligui